Sì, è già partito, ok Sì, stanno qui con i cavalieri dello Zodio Scusatemi far ridere Comunque il mister Alberto Mosini Dimitri Ghetti, ma io non sono il mister No, lo so, appunto, il giocatore Dimitri Ghetti? Sì, perfetto Comunque, allora Voi l'anno scorso lavate i viola Quest'anno i cavalieri dello Zodiaco Novità dell'anno scorso? Il nome Il nome, poi abbiamo preso il nostro numero 10 Tavo Vieni un po' qua, dai Tavo Inquadrano, dai È lui, Tavo, numero 10 E poi abbiamo preso Lino che è sotto la doccia Vabbè, Lino Lino E poi abbiamo, forse c'è un addio Però non si sa ancora, siamo in trattativa Perché il nostro capitano Polpo Forse va al DC United, però non si sa Dobbiamo ancora parlare Comunque, un riassunto della partita di oggi? Un riassunto tattico Una vittoria di squadra Contestata dai giocatori con l'allenatore Sì, ma volevo dire una roba Siamo l'unica squadra senza allenatore Penso già stasera Non giocherò più Non aiuterò più questi ragazzi Noi ringraziamo per la disponibilità E alla prossima, raga Grande Tigre Sei il numero uno Nota camellone anche Da trovare Scriviamo sabato Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti